Ciao a tutti e benvenuti al quarto capitolo di Impara l'Orienteering, serie di lezioni promossa dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Oggi parleremo delle tecniche di base utilizzate nell'Orienteering. Durante una prova di Orienteering occorre transitare per tutti i punti di controllo nel minor tempo possibile. Per fare questo in modo sicuro e veloce dobbiamo necessariamente applicare delle tecniche. Scopriamone alcune comunemente utilizzate anche da atleti di alto livello. Partiamo dalle linee di conduzione. Questi sono tutti gli elementi lineari facilmente distinguibili che possiamo seguire per andare nella direzione voluta. Possono essere ad esempio delle semplici strade o dei sentieri o anche dei ruscelli o i margini di bosco. L'importante è che questi elementi siano utili al nostro scopo. Questi stessi elementi possono essere utilizzati come una linea di arresto se posti perpendicolarmente rispetto al nostro avanzare. Utilizzati un po' come se fossero delle sponde che ci guidano verso il punto di controllo. Il punto di attacco è l'elemento più evidente il più possibile vicino al punto di controllo stesso. Le nostre scelte di percorso devono sempre considerare il raggiungimento del punto di attacco, soprattutto quando la lanterna è posizionata in una zona con scarsa visibilità. Le linee di conduzione, di arresto e i punti di attacco sono la base per poter raggiungere qualsiasi punto di controllo. Vediamo alcuni esempi. Dobbiamo raggiungere il punto di controllo numero uno che è posizionato in un avvallamento all'interno di una zona dove la vegetazione ne impedisce la visibilità. Per prima cosa dobbiamo individuare un corretto punto di attacco e in questo caso la stessa vegetazione è un ottimo punto di attacco grazie alla sua forma molto distinguibile. Raggiungiamo il punto di attacco tramite le linee di conduzione e le linee di arresto. Partiamo in direzione sud utilizzando la larga strada sterrata come linea di conduzione fino all'incrocio con il sentiero che ci fa da linea di arresto. A questo punto utilizziamo il margine della vegetazione fitta a sud-ovest come linea di resto per poi trasformarla in linea di conduzione verso sud fino a raggiungere il punto di attacco. Da qui trovare il punto di controllo sarà semplicissimo. Vediamo ora la tratta successiva. In questo caso abbiamo due evidenti scelte di percorso est e ovest. Consideriamo inizialmente la scelta d'ovest. Per prima cosa individuiamo come punto d'attacco la curva del sentiero accanto all'albero particolare. Quello sicuramente farà il caso nostro. Possiamo raggiungerlo cominciando con una direzione grossolana verso ovest certi di avere un'ottima linea di arresto cioè il piccolo fiume. Come linea di conduzione verso sud usiamo lo stesso fiume che ci guiderà fino all'imbocco del sentiero e quindi al nostro punto di attacco. Se invece scegliamo di raggiungere il punto di controllo tramite la scelta d'est allora individuiamo il punto di attacco dove il margine di vegetazione effettua una curva appena dopo l'imbocco di quel sentiero. Seguendo quindi il margine stesso verso sud sarà molto veloce raggiungere il nostro punto di attacco e di conseguenza anche il nostro punto di controllo. L'applicazione di queste tecniche potrebbe risultare ancora più efficace se abbinata ad una corretta semplificazione della lettura della mappa. Considerare unicamente i riferimenti più evidenti e gli oggetti in minor numero presenti all'interno di una mappa soprattutto con mappe particolarmente dettagliate potrebbe aiutarci a spogliarle degli elementi superflui e quindi aiutarci a riconoscere più facilmente le corrette linee di conduzione di arresto e i vari punti di attacco a noi utili in quel momento. Ad esempio in questa mappa raggiungere il punto di controllo 2 potrebbe risultare molto lento se scegliessimo semplicemente di procedere in linea retta. La lettura di tutti quegli elementi potrebbe rallentare notevolmente il nostro avanzare. Se invece consideriamo solo gli elementi più rari e facilmente riconoscibili nella realtà come ad esempio la linea elettrica potremmo utilizzarla come linea di conduzione fino alla successiva linea elettrica che potremmo utilizzare come linea del resto e da lì il facile punto di attacco cioè il margine di vegetazione. Quindi tutti gli elementi per noi momentaneamente superflui li eliminiamo virtualmente dalla mappa e quel che resta è quel che veramente abbiamo utilizzato cioè pochi elementi essenziali per raggiungere velocemente il nostro punto di controllo. Passiamo a questo ulteriore esempio. Ci troviamo in questa zona caratterizzata da una estesa roccia affiorante ricca di buche e di grotte. Come possiamo velocizzare il raggiungimento del punto di controllo numero 2? Dobbiamo semplificare considerando unicamente gli elementi più rari che in questo caso sono gli alberi particolarmente visibili oltretutto sopra una roccia affiorante. A questo punto risulterà semplice e veloce raggiungere l'albero più ad est ed utilizzarlo anche come punto di attacco per il nostro punto di controllo numero 2. Proviamo ora a fare un piccolo quiz. Avete 10 secondi per segnare la lettera corrispondente alla risposta che ritenete corretta. Cos'è un punto di attacco? A. Qualsiasi oggetto puntiforme lungo il tracciato? B. Il punto a metà strada tra due lanterne. C. L'elemento più evidente vicino al punto di controllo. D. Il punto dove viene posizionata la lanterna. La risposta corretta è C. L'elemento più evidente vicino al punto di controllo. Cosa si intende per semplificazione? A. Cancellare sulla mappa i punti di controllo già trovati. B. Scegliere una tecnica ed adottarla per tutta la gara. C. Non dare peso agli errori fatti. D. Considerare solo gli elementi essenziali per ogni tratta. La risposta corretta è la lettera D. Considerare solo gli elementi essenziali per ogni tratta. Mi auguro vi sia piaciuta questa lezione e vi invito a seguire anche le altre per imparare sempre di più sullo rendering. Ciao a tutti da Stefano.